Sull'arroganza e la mitomania non ho niente da dire perché magari sai a qualcuno può sembrare così anche se insomma le persone che mi conoscono bene sanno che non sono proprio così Su quella droia avrei qualcosa da dire A presto A presto A presto A presto A presto A presto